Adesso la facciamo dando parte da qua indietro 1, unisco, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Solo in avanti Adesso orizzontale Esco 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Adesso 1, 2 3 4 1, 2 3 4 Adesso 1, 2 1, 2 1, 2 Facciamo tutti i movimenti con lo stesso passo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 1, 2 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Adesso rimango fermo con la destra avanti Solo 1, 2 1, 2, 3, 4 Rotate il corpo Rotazione 1, 2, 1, 2 E con l'altra guardia 1, 2, 3, 4 Sempre in sento orizzontale Altra guardia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Orizontale Diagonale orizzontale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 Un altro guardia Un altro guardia Ilasso Ilasso Non mi lascia lavorare. Mi fa l'attacco, uno, orizzontale, primo movimento, partiamo con l'orizzontale, quindi uno, orizzontale e lavoro figura 8. I primi due apri, poi aggiungiamo i galli, dove quello che ti interessa è vedere, non questo, ma lui mi lascia spazio, tutto qua. Ora finisco, uno, e vai!